bella a tutti ragazzi eccoci qua in questo nuovo video io sono nt oggi siamo in un nuovo video in precedenza avevo fatto il demo il re delle capre il video e ok adesso invece non ti saluta eh lo so un secondo ragazzi veloce un secondo veloce veloce mette un po ok ragazzi sono tornato mi iniziamo subito ma adesso la vedete quella torre laggiù che non si vede ancora quella torre laggiù che si trova là dobbiamo andare là dimmi dimmi non lasciarmi solo non so fare intanto la macchina c'è quasi investito guarda che guadagni punti eh lo so ok vedete questo luogo ok qui salite qui dovete salire vedrete delle torce e qui ci sarà una specie di coso qui ci sarà scritto getter the sacrifice adesso vado a prendere gli umani da sacrificare che tanto stanno qui vicino ma sono bug oppure sono proprio easter egg del gioco cioè sono volontariati dal gioco diciamo sì parti dal gioco sì ok un attimo ok ma altrimenti non si chiamerebbero easter egg ok intanto ivan se n'è andato poverino ok portiamo il primo umano da sacrificare perché ormai giocando a questo gioco si diventa capra quindi guardatevi allo specchio perché ormai siete capre quindi ok primo umano sacrificato entra nel cerchio entra nel cerchio fantastico si è incastrato l'umano allora questo umano mi vuole far sclerare giusto eh ma tu non ce la farai con la mia lingua ok andiamo a prendere subito gli altri che facciamo veloce veloce questo piccolo ma piccolo proprio piccolo gameplay prendiamo gli altri umani vabbè io taglio ok ragazzi eccomi tornato dobbiamo solamente prendere l'ultimo mano ah ah la ragazza non fa conto di niente cioè sta parlando da sola meglio portarla dalla psichiatra cioè l'intelligenza artificiale di questo gioco no io mi stupisco ma la stai mozzicando che stai facendo come fai ad adapparla tipo e leccandoli con il ok dovrebbe succedere tipo sta cosa che vedete che cos'è il super saiyan oh mio dio il super saiyan no non è un super saiyan ma è finito sta cosa e adesso avremo il potere di attrarre le cose come potete vedere cliccando R intanto ho visto guardate tu vieni a me ok andiamo che figata ok ragazzi spero di esservi stato utile mettete un like alla pagina di facebook che come ogni video trovate nella descrizione iscrivetevi al canale lasciate un like alla pagina di facebook e ci vediamo al prossimo video un attimo non si chiude il video allora ps sono un membro del team red ok bravo e non l'hai presentato ecco lo so lui è Mark Evans no scherzo è Ivan come sono scusa Mark Evans no scherzo comunque è Ivan ci vediamo al prossimo video belle ragazzi ciao guardate che senza pelo vabbè lasciamo stare qui ne va qui ne va qui ne va ciao